Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io sono The Real Artist Blades e... e... e faccio le missioni su YouTube Giochiamo Adesso si sente quando io parlo Vabbè Vai Sì Chi fa? No, l'ho avuto però Un pochino l'ho avuto tipo E volevi Io sono leo Io sono leo Dai vai 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 Boom Perciò l'ho lanciata lì la palla Così quel mortis moriva Ma se può però morì Dai si seguimi seguimi Vieni vieni Ma che stupido è con il mortis Ma che stupido è con il mortis Stupido Coleris Vabbè è troppo Oh mortis No Non ho lasciato il campo libero Noo double kill Non ci credo Double kill Perciò sentire quelle cose Mia frate Mia frate lo sta giocando a A A A A A A Come si chiama? A A A A A A A no oh che kill che caro di kill ma mia una kill troppo troppo forte oh 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 e vai abbiamo vinto ah sette volte i nemici sono ucciso non ho io non me ne sono nemmeno accorto ah 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 dai double triple kill si dice triple ci mi ricordo bene triple kill volevi prendermi qua non volevi io mi sono nascosto tutte quelle torrette ah faccio più perché cosa va allora ho segnato ma qua stai guidando una macchina o il pick up oppure il quad vabbè non so giocando però sasso non arc of duty ecco 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 dopo quando non c'è tempo vedi sul tablet il video che uscirà tipo questo qui di dire la kill che ho fatto col surge troppo e io ho preso sfavorito no dai sono morto vai Thanos vai Thanos 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 fuervo 1100 500 ghianni chili vabbè mi sono fatto un'altra volta super boom dai tieni Thanos ma che cavolo io ne co tieni ma tu non mi senti proprio Thanos aspetta che mi mi sponda un pochino se non puoi ti chillano muori Ricky muori Ricky muori mu senta che l'ho fatto due là due ok ops è un sbagliato marco è perso io stai in un video stai in un video guiderina mia no non mi insieme a vedere il personaggio no 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 volevo prendere almeno almeno due kill almeno si passava la missione noi i miei amici mi devono rubare le kill le kill le kill le kill o finita no non ho detto niente del mio che so che una parolaccia io siamo family pri engaged non vuoi dire niente boom boom no dai vai vai si solo uno poi non c'è poi finisce il video no dai sto per usare sto per usare la super ho vinto ho vinto mi sono sempre un giro dai ci facciamo una partita extra se vinco posso prendere altri 100 oggettori guardi giochiamo 3 quello l'ho fatto pure l'ultimo secondo wow io blocco tutti però Sara mi può togliere la super se lei però se la fa non è troppo sto cavolo di frank è indistruttibile solamente di quella vita che ha e hanno messo pure il baluardo che non gli bastava tutta quella vita hanno messo pure il baluardo che è ancora più forte anche ha anche più vita muori muori stupid ma mi aveva fatto c'era il muretto mi ha salvato ok si però pure rosa c'è tanta vita però se la uccidi muore e basta aiuto 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 ah forse è rimasto l'insecchito è bloccato l'insecchito no però è bloccato si boom box baby perché ce l'ha con me perché ce l'ha con me sto cavolo di semino volevi però io non lo so se la super quindi faccio così boom e non tolto la super no no si no 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 abbiamo perso e la mia non la faccio questa partita che se no vabbè comunque aspettate anche la ultimisci non vi ho fatto una prima cosa io ho visto extra che voglio prendere il premio insieme a voi ma questa è enorme vabbè comunque ciao ciao